Leverpoli contro Makla Madrink si gioca sul campo del Fiore Verderame, ambo le squadre già matematicamente fuori, vogliono comunque onorare l'impegno. Prima grossa occasione per la formazione di casa con Musiu da quest'altra parte, il vantaggio Makla, gran lavoro di Nugedat, la rete, messa segno da Murgia, Pisedu subito dopo pericoloso, Fanni ci mette una pezza, ancora lui, facile facile per Alessandro Marchi che va a festeggiare col compagno Raddoppio Makla Madrink al tramonto della prima frazione. Con le immagini possiamo ora andare a vedere quello che succede nel corso del secondo tempo. Pronti via, arriva subito il gol della sicurezza per la formazione ospite alla quale evidentemente il campo di Verderame porta fortuna e Gianluca Banchero a depositare con un preciso destro dal limite dell'area di rigore. Da quest'altra parte il tentativo di Marras a botta sicura e il salvataggio di Meloni poi è sfortunato, Piras il suo mancino va a sbattere contro il palo. Il gol del poker della formazione di Emanuele Pisedu lo trova Gianluca Banchero, per lui è doppietta personale. Liverpool ormai al tappeto, allora c'è parecchio lavoro da fare per l'estremo difensore dei biancoverdi Alessandro Fanni che nulla può fare in questa circostanza. Gol del 5-0 realizzato da Amar Nuzedat, votato migliore in campo in questa partita. I Liverpool reagiscono, gran gol quello di Alessio Marras dalla distanza, punteggio adesso di 1-5 che però cambia ben poco. Pisedu da quest'altra parte col mancino, ottima la risposta da parte di Fanni, quindi poco prima del triplice fischio il gol del definitivo 6-1 per gli ospiti realizzato da Murgia. Doppietta personale anche per lui, Maklamadrink che adesso aspetta e spera il ripescaggio.